La dottoressa Yolanda Lotta, già assessore alla cultura e agli spettacoli del comune di Leporano, questo evento Donna dei Due Mari rientra nel cartellone estivo organizzato dall'amministrazione Damiano e da lei in qualità di assessore all'epoca. Un momento importante perché si vogliono valorizzare le eccellenze femminili del territorio, molte delle quali sono leporanesi e quindi Leporano ogni anno fa da cornice a questo riconoscimento. Sì, il valore delle donne, in questo momento storico che stiamo vivendo abbiamo voluto portare avanti questo discorso iniziato con l'amministrazione Damiano e non potevamo lasciarlo così insoluto. Ci sono questi riconoscimenti sia per quanto riguarda lo sport, sono talenti locali di Leporano, di Pulsano, di Taranto e poi ci sono anche questo premio all'eccellenza femminile per quanto riguarda l'imprenditoria locale. Abbiamo voluto valorizzare queste donne proprio con questo premio, premio di Donna dei Due Mari che veramente è il fiore anche all'occhiello della provincia ionica. Abbiamo voluto stare, come diceva Damiano, perché abbiamo voluto dare questo segno di ripartenza dopo tutto quello che abbiamo subito e dare alla nostra comunità un segno di speranza e penso che ci siamo riusciti. Grazie.